Una nuova avventura di caccia al capriolo in Europa che ci porterà a cacciare questo bellissimo animale in ambienti molto diversi tra loro usando differenti tecniche di caccia. Luigi Giusti e i suoi compagni affronteranno difficoltà ambientali che metteranno a dura prova le loro abilità e la propria esperienza venatoria. Il capriolo dal Mediterraneo al mare del nord dal 6 novembre ogni lunedì alle 22 in esclusiva su Caccia canale 235 Il capriolo dal Mediterraneo al mare del nord